Ciao a tutti, in questo tutorial vi spiegherò come inserire delle targhette all'interno del vostro forum realizzato tramite forum attivo Il tutto è molto semplice e tra poco vedremo come fare Il risultato finale sarà questo, come vedete sotto l'avatar abbiamo delle targhette E se selezioniamo l'utente vedremo la lista dei premi che ha ricevuto In questo caso io ho fatto riferimento a premi per quanto riguarda le targhette Ma voi potete decidere voi a che cosa attribuirle quest'ultime Adesso andremo a vedere come realizzarle La prima cosa che dovremmo fare è andare nel pannello di amministrazione Selezionare nel menu utenti e gruppi, mi raccomando selezionate avanzato come tipologia di pannello di amministratore Selezioniamo utenti e gruppi e nella categoria utenti selezioniamo profili Fatto questo in basso a destra troverete questo pulsante che se ci passate sopra vi uscirà la nota che fa riferimento alla sua funzionalità Ovvero aggiungere un campo Selezioniamo aggiungere Il tipo di campo selezioniamo zona di testo Come nome scegliete quello che più preferite, nel mio caso premi E diamo un colore nero Voi datelo in base al tema del vostro forum Come descrizione in questo caso io non metto niente Url icon vi consiglio vivamente di non mettere nulla Soprattutto per questioni di estetica Ma se volete potete metterlo Da riempire obbligatoriamente vi consiglio di mettere no Anzi dovete mettere no Se no dopo quando un utente si iscrive al vostro forum Avrà la possibilità di modificare questa zona E quindi dopo cerco che mettono le targhette senza la vostra utilizzazione Per cui lasciate no Affissione Io vi consiglio solo di selezionare profilo Se selezionate anche messaggi Soprattutto se sono tante le targhette Dopo è un problema di estetica Tipo di affissione Lasciamo icona Mettiamo icona Chi può modificare i valori del suo contenuto Vi consiglio di non mettere nulla Al massimo selezionate i moderatori Pubblicare questo campo per gli utenti che hanno almeno lo statuto Potete scegliere voi chi preferite Possiamo mettere anche ospiti Separatore lasciate quello che è già presente Contenuto standard Mettiamo nessuna premiazione Lunghezza massima Mettiamo il massimo 999 Salviamo le modifiche Selezioniamo la rotella Modificare Sempre di pregi Del campo che abbiamo appena realizzato E selezioniamo Sostituire il contenuto Qui in basso In questo modo Tutti gli utenti Avranno Nessuna medaglia E successivamente Avremo la possibilità Di aggiungerle In base a delle premiazioni Che gli assegniamo Selezioniamo sì E come vedete Adesso andiamo a vedere il forum Come vedete Nel profilo abbiamo Premi Nessuna premiazione Quello che dobbiamo fare Successivamente È aggiungere le icone Che fanno riferimento Alle targhette Il linguaggio che dobbiamo utilizzare Non è l'HTML Ma bensì Il BB code Che è quello che si utilizza Nei forum Quando bisogna mettere Il grassetto Le dimensioni del testo Eccetera eccetera In questo caso è Aperta parentesi quadra Img Link dell'immagine Che andremo a prendere Successivamente E chiudiamo Con slash Img E chiudiamo le parentesi In mezzo ci mettiamo Il link dell'immagine In questo caso Io ho già Diciamo Delle targhette pronte Metto l'url Che ho già Scelto all'inizio Facciamo ok Convalidiamo E come vedete È comparso Il nostro Premio Ovvero La nostra targhetta Se vogliamo Oltre a inserire Una targhetta Ne possiamo inserire Di più Quello che dobbiamo fare Semplicemente Selezionare Modificare E ripetere Il codice Più volte Se vogliamo Uno a fianco All'altro Basta che non Lasciamo spazzature Mentre se lo vogliamo A capo Basta mettere Appunto Il L'accapo In questo modo In questo caso Prendiamo L'intero codice Che ho preso Precedentemente Prima del tutorial E come vedete I codici Si ripetono Però Urlo Immagini diverse Facciamo ok Come vedete Compaiono Tutte le targhette Che ho deciso All'inizio Detto questo Spero che il tutorial Sia stato di vostro Aiuto E gradimento Se volete Potete lasciare Un commento E in caso di problemi Non esitate a contattare Il team di supporto Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao Ciao